Via! Lo sport è ancora protagonista per la città di Fano. Domenica 20 e 27 marzo, nella piscina di Grotta Mare, si è svolto il campionato regionale invernale, esordienti B e A. I giovani atleti della Fano in fortuna e nuoto hanno ottenuto grandi miglioramenti cronometrici e ottimi piazzamenti, colminati con le due medaglie d'argento conquistate da Andrea Leanza nei 100 stile libero e nei 200 d'urso esordienti B, mentre Veronica Pezzolesi è salita sul terzo gradino del podio per i 100 farfalla esordienti A. Dal 5 al 13 marzo, invece, si sono svolti a Fabriano i campionati regionali invernali di categoria e assoluti, conquistato il decimo posto nella classifica assoluta per società. Ottimi anche riscontri individuali. Il capitano Nicola Bellagamba ha conquistato nella categoria Signores la medaglia d'oro nei 200 d'urso, il secondo posto nei 100 e il bronzo nei 50 d'urso. Secondo posto anche per Luca Galli nei 400 metri stile libero e per Marco Micioli nei 100 farfalla, tra gli atleti classe 2008, degni di nota le prestazioni di tutti gli altri nuotatori, con grande soddisfazione del direttore tecnico Massimo Russo, che auspica ulteriori progressi tecnici nei prossimi appuntamenti di gara. I ragazzi hanno gareggiato a livello regionale in diverse categorie e sono riusciti gli allenatori, Roberto Tonelli, Marianna Bertolucci e Marco Ricci per i master, sono riusciti a ottenere dei bei risultati dai ragazzi che hanno conquistato diversi podi, anche a livello di titoli regionali. Ed ora che cosa succederà? Continuano gli allenamenti? Ci sono altre gare in vista? Certamente, adesso abbiamo in previsione un meeting nazionale a Firenze, il 30 aprile e il primo maggio, in vasca olimpionica, dove sono convocati una ventina di ragazzi e poi naturalmente altre partecipazioni a livelli nazionali e internazionali, sempre in vasca lunga, in previsione della stagione estiva. La piscina come sempre rimane aperta e a disposizione per questi allenamenti? Per quanto riguarda gli allenamenti si svolgono regolarmente, ma soprattutto stiamo rilevando un flusso di utenza che sta di nuovo crescendo, perché abbiamo avuto una fisiologica flessione nel periodo invernale anche dovuto alla pandemia. Adesso i numeri si stanno rialzando e quindi siamo molto fiduciosi per tutto il proseguo delle attività, dalla Scuola Nuoto Federale all'Aquagym, a tutti i corsi per i bambini, per gli adulti e per i diversamente abili. Com'è possibile avvicinarsi? Allora, innanzitutto contattando la nostra segreteria. Le nostre segretari Chiara e Ruta sono davvero importantissime per la nostra organizzazione e quindi rivolgendosi in segreteria potranno avere tutte le informazioni utili per potersi iscrivere ai corsi e soprattutto anche in previsione dell'attività estiva che si svolgerà in Baia Sassonia, stiamo già progettando la ottimizzazione, la razionalizzazione di tutti gli orari, di tutte le attività e proprio per questo a tal proposito faccio un appello a tutti quanti coloro abbiano intenzione di venire a operare con la nostra società, parlo degli istruttori o anche degli assistenti bagnanti, di rivolgersi alla segreteria per prenotare un colloquio con me in modo da poter magari entrare nel nostro staff.